Salve bella gente qui è il vostro Manu e bentornati signori oggi ci troviamo sul quinto episodio della serie principale di Tomb Raider 2 Remastered starring Lara Croft va bene oltre questo ragazzi se avete perso lo scorso episodio vi invito subito a riprenderlo così almeno capite perché siamo finiti qui infatti nello scorso episodio siamo arrivati addirittura a salire sopra l'aereo del signor Bartoli però un suo scagnozzo ci ha colpito alle spalle e adesso ci troviamo nella piattaforma offshore ragazzi lasciate un bel like e se non sono ancora iscritti iscrivetevi al canale naturalmente prenderemo come al solito tutto al 100% ma prima di fare questo aver attivato questa leva subito noi ci buttiamo perché mamma mia sono un po' in ritardo abbiamo subito ok allora l'ho tirato solamente una volta sicuramente me ne pentirò anche se esatto la porta purtroppo è a tempo no eppure già l'ho tirato bene si si doveva tirare due volte se non sbaglio l'ho tirato già due volte allora facciamo la porta si apre e già facciamo una roba del genere vedete così abbiamo fatto benissimo let's go merda siamo ai vasi quindi dobbiamo stare attenti ovviamente ci sono gli scagnozzi porca vacca lara lara corri lara corri croft corri corri anche perché ci hanno rubato tutte le armi ok bene ci siamo subito attiviamo questo pulsante e ci buttiamo subito in acqua anche perché abbiamo aperto un passaggio qui sotto molto bene una volta che siamo qui signori saliamo e disattiviamo le eliche dell'aereo questa allarme comincia a non sopportarlo più ok una volta che è fatto questo signori andiamo da questa parte perché andiamo subito a recuperare il primo manufatto ovvero il manufatto di giada allora signori una volta che è fatto questo io vi consiglio altamente di fare un salvataggio ora poi vi farò capire anche il perché dovete se voi non lo sapete ecco vedete vedete come vengo respinto dovete stare attenti all'elica dovete fare un grande giro perché altrimenti l'elica vi attirerà e fate una bruttissima fine allora magari ci dobbiamo anche sbrigare avrei potuto accendere un bengala ma si vede quindi sbrighiamoci forza perché allora posso prendere aria se non sbaglio si benissimo scendiamo un attimo giù e qui c'è una leva la attiviamo subito e questa ci permetterà di andare a prendere il manufatto di giada ma prima di fare questo io volevo vedere che cosa c'era qua poi tipo non c'è assolutamente niente ah siamo dall'altra parte allora andiamo a recuperare il manufatto quindi andiamo da questa parte ragazzi questo è questo livello non credo sia difficile come è stato il precedente mamma mia se vi siete persi il quarto episodio le bestemmie e gli insulti che abbiamo dovuto buttare non avete la minima idea allora andiamo da questa parte subito ed ok voilà bene bene e il primo è stato recuperato adesso si magari ritorniamo da quella parte anche perché dobbiamo trovare subito le nostre pistole non possiamo eliminare quegli stronzi senza quindi sbrighiamoci non è un problema l'ossigeno ok saliamo vediamo se c'è qualcosa dietro assolutamente no e andiamo avanti ok siamo ritornati qua saliamo scendiamo subito e una volta aver fatto questo occhio croft una bella corsa e aggrappata bene ok ragazzi una volta aver fatto questo devo dare un attimo un'occhiata no ok mamma mia io mi sono buttato tutto così ah eccole almeno questa volta siamo messi bene un bel jump e ripartiamo subito benissimo senza le nostre amatissime pistole come potremmo mai fare allora non mi sembra che qui ci sia altro bene quindi possiamo andare avanti boom ok andiamo subito a rompere il culo a quegli stronzi e muori e muori e muori c'è da ricordare che io ho le mie sole pistole mentre quello c'è un fucile assurdo ok è andato dietro eccolo la infatti ok vieni qua stronzo vieni qua stronzo ok ok fatto fuori allora signori uno di questi due eccolo qua ci dropperà una card la card deve essere subito utilizzata qua benissimo lo so non lo sopportate neanche voi vero? neanche io e adesso stacchiamo oh prima di andare avanti magari se mi faccio un medikit sto a posto ok ok allora fate bene a venire qui prima si potete luttare non so se ci riesco alla prima però voglio fare un salvataggio perché qui ci dobbiamo andare dopo ok da questa parte si dovrebbe andare avanti ma serve una carta rossa la card rossa la prenderemo fra poco e andiamo avanti in questo posto ci ritorneremo dopo ok allora procediamo meno male adesso l'allarme non da più fastidio ok allora andiamo avanti abbiamo questo e lo attiviamo subito amma mia mi ricordavo che c'era qualcuno allora ahah ahah fatto fuori ahah no raga prendendo l'oggetto ho staccato la musica che palla gira anche questo lo so che sei qua bene 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 prendiamo subito l'oggetto e ci siamo non mi ricordo se si andava di lì avanti vabbè facciamo una cosa innanzitutto qua sono munizioni ahah queste ragazzi sono munizioni per fiocina ahah veramente mi sto perdendo qualcosa spero di no i bro stavano giocando a carte ma aspettate ma aspettate un secondo voglio vaffaculo andremo di qua non sta niente non sta niente si c'è un pulsante raga ma quello lo dobbiamo prendere dopo uuuh la la ci siamo semi automatiche vabbè no semi automatiche basta e ragazzi qui abbiamo la fiocina ahah fucile subacqueo sto utilizzando munizioni non lo so non lo voglio sapere vabbè sembra inutile attualmente ok facciamo una cosa adesso dobbiamo tornare al bottone bene allora dobbiamo fare una roba del genere una roba del genere teoricamente qua oh merda non pensavo andasse così sapete che non mi ricordo eh lo sapevo oh cazzo va bene raga allora tutto è a tempo uno secondo dobbiamo salire sull'altro letto dai che forse adesso non sbaglio più quindi bottone ok ok adesso andiamo di qua saliamo di qua bene giriamo signorina teoricamente devo fare questo let's go bene ci siamo allora allora a questo punto potete scendere così ok ah so dove siamo e adesso vi faccio vedere una cosa c'è un piccolo trucchetto in questa parte ho fatto salva vero salva ma ragazzi se voi dovreste tirare quei massi e non prendere il fuoco ma noi saremmo diversi ok bene non ce l'ho fatta si può fare raga si può fare bene il piano è quello magari così bene mi shotta mi shotta merda si può fare dai vediamo se ci riesco a meno che nella remaster ed arabia no vaffa culo vedi che si può fare let's go e come se si può fare una piccola scorciatoia raga che non fa mai male ci ribecchiamo sopra facciamo fin da che non abbiamo visto niente oh vaffa culo ah addirittura ho sbloccato un trofeo incredibile ragazzi quindi se andate così senza non utilizzare i blocchi di fretta infatti ho sbloccato il trofeo vi da anche un bellissimo trofeo saliamo perchè da questa parte raga andremo a prendere il secondo segreto eh let's go facciamo le cose fatte bene certo che sarei morto ecco una di qua si va indietro e andiamo qua uh sapete dove siamo come se lo sapete certo che non sarebbe dovuto andare così però va bene forza andiamo forza andiamo ok raga adesso basta solo tornare dove eravamo prima quindi dobbiamo utilizzare la chiave rossa ok quindi già qui abbiamo fatto piazza pulita bene nel cile raga sapete cosa vi dico facciamo anche un bel salvataggio ok questa è andata fermi tutti automatiche in mano ok pezzi di merda ok mamma mia e questi sono fatti fuori uh allora qua dobbiamo fare qualcosa di molto particolare innanzitutto andiamo qua e prendiamo questo e allora fermi diamo una bella spinta solo una raga adesso dovreste girare dall'altra parte per tirarlo ma se voi venite mettete qui e saltate non si è buggato nulla siete solamente dati all'altra parte così non c'è bisogno che fate il giro bene questo qua molto semplice adesso dobbiamo solamente la odio lo odio questa allarme non lo sopporto più ve lo giuro andiamo a tutta velocità magari basta sbattere le tette sul muro e andiamo bene ah teoricamente potreste anche fare che vi mettete sempre al muro così e andate ok ok una volta ho fatto questo dobbiamo andare di qua un bel jump eppure avevo fatto un bel jump oh faffanculo adesso con calma non mi fido facciamo così ok fatto fuori e prendiamo subito quello che ci droppa ah almeno non si sente più il casino una volta qui raga tiriamo la leva bene bene anche perché qui servirà la testera verde la testera verde ci servirà per andare a finire il livello adesso procediamo abbiamo alzato il livello dell'acqua annaggia a me ok boom non mi ricordo se c'è qualcosa qua sotto ma credo di no assolutamente no bene possiamo aggrapparci e sempre massima attenzione ok tiriamo la leva e abbiamo tirato quella botola dobbiamo ritornare nuovamente lì ok mamma mia ma non c'è un un modo per disattivare staggeggio mamma mia non lo sopporto guarda scappiamo e basta ok io siccome voglio fare il pro diciamo così e ci siamo scappiamo ah silenzio meno male ok 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 adesso attenzione salviamo la partita bene adesso raga occhio merda chi è che mi chiama aiuto un attimo solo allora raga forse ci siamo da lì non si va dobbiamo andare da questa parte e fate attenzione perché qui ci sono dei sub un bel jump un bel jump e ci siamo occhio vediamo se Lara oh lo vedi che lo riesci a vedere a quello bene è fatto fuori ora non posso mica fare un salto da qui ah devo arrivare la ok lì posso arrivarci mamma mia ok ok maledetto Zeus ci siamo ci siamo già mi state rompendo i coglioni tutti tutti mi state rompendo le palle facciamo una cosa subito mettiamo queste mi andiamo dritti per dritti vaffanculo lì ah lì si può eventualmente salire ottimo buono a sapersi bene bene ok ah il pompa è tornato nelle mie mani e fatti vedere beh bene allora ok allora let's go come potete vedere là sotto c'è il manufatto d'oro e prima di scendere voi se volete potete scendere però io vorrei fare che prima faccio un jump da questa parte come ha fatto questo a morire così non si sa vaffanculo ignori eccolo qua recuperiamolo e adesso boom una volta una volta averlo preso saliamo qui perchè dobbiamo recuperarlo il manufatto ok ed eccolo qua no 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 brutti pezzi di me ah rega aspettate magari facciamoci un medikit eh signori adesso andiamo a giocare duro anche noi tanto è ritornato nelle nostre mani sub e non ci dovrebbero dare fastidio l'abbiamo già eliminato brutti schifosi che non siete altro ora vi elimino giusto per soddisfazione personale ah per un bel colpo vi è arrivato brutti stronzi forse la rasali per favore ah fatti fuori eh non mi date niente ah vabbè dai qualcosa Sara bravo ok signori una volta aver fatto questo noi dobbiamo immediatamente tuffarci e salire nuovamente dalla scala che abbiamo visto prima era qui mi sembra di no saliamo giusto per sbrigarci ok fare un bel jump raga tutto questo deve essere fatto perchè il manufatturo lo dobbiamo prendere e il chip lo dobbiamo prendere quindi raga purtroppo tutto questo giro rompipalle si deve fare facciamo una cosa facciamo uno facciamo due va bene non si fa un cazzo ok saliamo Lara si veramente no Lara Croft non riesce ad aggrapparsi in acqua questa cosa io non la capirò mai quindi raga dobbiamo fare con calma con molta calma raga uno due due e tre ah ci voleva tanto e perchè salire perchè serve per forza scappare dal da queste grade allora magari andiamo così e ci siamo una volta una volta hai fatto questo teoricamente dovrei farcela let's go ok abbiamo praticamente finito il livello raga bene saliamo ok scappiamo di qui immediatamente raga ok 30 di 31 oggetti vabbè fino ad un certo punto raga poi cazzo le frega forza Lara ed eccolo qua il nostro ultimo oggetto signori abbiamo preso tutto ragazzi chiedo scusa a tutti però mi sono dimenticato di attivare la leva manneggia me facendo questo si attiverà l'acqua e adesso siamo veramente pronti quindi scendiamo di qua benissimo vedete ora c'è l'acqua e andiamo stavo rischiando anche di morire scappiamo immediatamente di qua signori signori io spero che il video vi sia piaciuto è stato così fino a quando lasciate un bel like e se siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e noi ci ribecchiamo direttamente al prossimo episodio abbiamo finito abbiamo finito scappiamo Lara ok forza è ok signori alla prossima qui è il vostro modo di continuare questo è tutto bello